Se il decreto Salva Roma la considerano una vittoria, ma gli occhi del Movimento 5 Stelle ora sono puntati su mille proroghe. Sì, è la svolta, perché finalmente la maggioranza del governo rintroduce l'emendamento a far caro per i tagli dei costi degli affitti d'oro. Una norma fondamentale che permetterà risparmio nel futuro di milioni e milioni di euro, visto che solo fino ad oggi i palazzi romani sono costati 400 milioni di euro di affitti.